altri tre positivi asintomatici domiciliati trasferiti in una struttura sanitaria per evitare il rischio di contagio in ambito familiare è stata l'aslo su richiesta del sindaco cristoforo salvati a disporre il trasferimento nel reparto di malattie infettive del polo covid di via passanti di altri tre scaffatesi infetti che erano in quarantena domiciliare perché asintomatici sono persone che vivono purtroppo in abitazioni piccole poco funzionali ad assicurare le condizioni di isolamento che devono osservare i soggetti positivi ha spiegato il primo cittadino che ha ringraziato l'aslo per l'immediato intervento a tutela della comunità scafatese confermando che il trasferimento dei tre contagiati è avvenuto questa mattina in questo modo aggiunto salvati consentiremo ai soggetti in questione di essere adeguatamente monitorati ma di restare allo stesso tempo lontani dai loro familiari per evitare l'ulteriore diffusione del virus già la scorsa settimana il dipartimento di prevenzione dell'asla sempre sollecitato dal sindaco salvati aveva disposto per le stesse motivazioni il trasferimento di altri quattro contagiati asintomatici e domiciliati all'ospedale giovanni da procida di salerno riconvertito in struttura di accoglienza per malati covid intanto all'ospedale mauro scarlato è in fase di trasferimento in un presidio non covid il paziente 65 anni di nocera superiore che era stato ricoverato nell'unità di terapia intensiva respiratoria domenica sera con una sintomatologia sospetta nonostante i test sierologici avessero fatto emergere dati preoccupanti il tampone naso faringeo effettuato sul pensionato ha dato esito negativo l'uomo diabetico era stato inizialmente trasportato da un'ambulanza del 118 nella tenda pretriage dell'umberto primo di nocere inferiore per una prima valutazione e gli era stata riscontrata una brutta polmonite aveva la febbre da alcuni giorni e con il passare del tempo era comparsa anche una dispnea altri accessi si sono nel frattempo registrati al pronto soccorso del polo covid nella giornata di ieri tutti i pazienti sospetti risultati fortunatamente negativi al virus